Diciamo che visto che il centro commerciale ormai è diventato un punto di riferimento per Rimini e non è solo shopping, ristorazione, divertimento, ma è anche qualcosa di più, quindi diamo anche dei servizi in alcuni momenti della nostra storia, abbiamo dato la nostra disponibilità oltre lo shopping e quindi per essere un attore abbastanza primario della scena locale ci sentiamo addosso anche una sorta di responsabilità in questo momento particolarmente drammatico della vita di tutti e della vita dei riminesi, abbiamo voluto dare un segno, una mano con questa iniziativa che vi vogliamo bene, Timbota proprio detto in dialetto, per far sì che riusciamo a dare una mano a tutti quelli che già danno una mano, perché abbiamo coinvolto il Comune, abbiamo coinvolto la Cruce Rossa, la Caritas Diocesana e che con i loro volontari fanno già molto, noi abbiamo voluto dare una mano tramite loro alle famiglie, alle persone meno abbienti del territorio che in questo momento e purtroppo anche più avanti potrebbero avere dei problemi economici.